3, 2, 1 Pesso d'aprile! Non ha funzionato benissimo, speriamo andassi meglio Deve dirlo anche tu però che mi lasci guarda solo E' perché dovevo fare 3, 1, bene frere è un casino In ogni caso vi abbiamo fatto uno scherzetto Il video che sarebbe dovuto uscire su StephFare è uscito su ChuplayersonConsole E quello su ChuplayersonConsole è uscito su StephFare Quindi abbiamo invertito i video per conformerli Sono usciti nello stesso identico momento Entrambi i video vi abbiamo dovuto fare questo scherzetto ovviamente per il primo ad aprile Perché qualcosa ve lo dovevamo fare E in descrizione ovviamente trovate l'altro video che sarebbe quello che sarebbe dovuto uscire in questo canale Quindi guardatevi entrambi E' più difficile a spiegare E vi abbiamo trollato malissimo E dato che siamo in vena di scherzi abbiamo deciso di andare a vedere altri scherzi che potreste fare per il primo ad aprile Quindi siete ancora in tempo a fare ai vostri amici qualche scherzo Però alcuni di questi sono davvero cattivi Allora partiamo da questo qui Fere Ce ne sono alcuni che abbiamo già visto in uno scorso video di scherzi Sì mi ricordo che abbiamo fatto tempo fa Però altri sono fantastici Allora qui fai proprio spaccare a qualcuno qualcosa Anche perché mi viene da dirti che questa roba macchia Non so esattamente cosa sono Però comunque ovviamente è un qualcosa che non appena apri il tergine cristalli perché sta piovendo Fa e ti fai l'arcobaleno Allora è bellissimo avere l'arcobaleno Perché secondo me è molto originale Spero non macchi che sia qualcosa di lavabile Lo spero Che non sia più di cattivo Però è bellino Questo scherzo davvero carino Questo è uno di quelli scherzi che reputo carino anche io Qua gli hanno fatto tutto l'ufficio in cartone Cioè che Che voglia Quanto c'è voluto Che voglia Schermi e tastiera Mouse Tappetino Telefono Abbiamo altri colleghi pazzi Stef Sarebbe brutto Bellissimo Io probabilmente un peluche me lo sarei pure tenuta Non tutti perché non sai dove metterteli Ma comunque Io nel dubbio il giorno del 15 aprile non andrei a lavoro Quindi Ne a scuola Vi do questo consiglio Chiudetevi in casa Esatto È meglio così Poi questa volta c'è domenica quindi è anche perfetto Allora questo l'avevamo visto Ora iniziano le cattiverie Ok Questa secondo me è una di quelle cose che non può essere perdonato nella vita Cioè è un rotolo di cartegienica finto Dove in realtà non c'è cartegienica Ok E c'è le prifuse Quindi tu pensi Ah che bello il rotolo pieno pieno Perfetto Quando ti capita Vai in bagno Hai fatto La cacca Lo devo dire La cacca Potevi anche non dirlo Tanto sapevamo Ehi mamma portami la cartegienica Tieni E rimani così È cattivo È cattivo Visto in questa prospettiva Questo non è perdonabile secondo me Questo non è perdonabile Sempre in un ufficio Vabbè però anche io te lo riempire di mie foto eh No questo credo che sia di dura La persona che non ha fatto lo scherzo Quindi è anche peggio Cioè vedere te stesso ovunque Pensa a tutto lo studio Pieno di Steph Pieno di Steph Pieno di Steph Poi c'è la scrivania Ma quanta voglia ci vuole Ma questi colori poi è quasi psichedelico Volevo dire Infatti fa un effetto figo Però poi non è figo Fa un bel effetto Perché poi va tutto tolto Non è figo Ah il dentifricio al posto della crema degli oreano Questo è brutto Questo è molto brutto Questo non fa ridere Questo non fa ridere Ma è lì tutto Anche perché poi io sono uno di quelli Che se lo mangia per intero secco E quindi quando te ne accorgi è troppo tardi Sì ma poi meno male che dice Assicuratevi che sia commestibile Quindi evidentemente qualche dentifricio particolare Perché comunque è tossico Non si può mangiare Quindi non fate questo scherzo mai a nessuno Perché può creare dei disturbi strani Direi assolutamente Poi questo qua è un po' simile a quello delle foto Ma con i giornali Cattivo 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 Cioè devi strappare Tutto l'ho detto Non bisogna andare in ufficio È una roba incredibile Cioè la gente ha voglia di fare cose assurde Ma poi quanta pazienza Tutto il computer Tutto le sef Ma tutto Guarda questo Questo ti ricordi che nello scorso C'era Soltanto attaccati alla porta E ti ho detto Per dare il feeling Questo invece l'hanno fatto davvero Stavolta Questo è carino Questo è carino Sì l'effetto è fighissimo Ed è bellino Quando apri è bellissimo Però è cattivo anche questo Però almeno qua Vedi vai con una cosa che buca E tu hai paura di bucare i palloncini? Sì mi dà fastidio quando I rumori forti Quando scuola demi Fa un po' male Vedi sarebbe un problema Perché altrimenti vai lì No io me li faccio Ti caderei addosso E starei felicissimo Andrebbe bene così E li lascio là E se è il tuo ufficio? Apriscono fuori Quindi rimangono per tutto Tutto l'edificio in giro Lì lascio Lì ne cavano che tanto Te ne rimarrebbero molti a te Cosa faresti? Li lascio lì Li lascio lì Tutti attorno Mentre se non fai Con il palloncino in testa Ok va bene Molto plausibile Guarda un altro Ma questo è con i posti Oh mio Dio Ma quanti ne ho utilizzato? Allora Facciamo un ragionamento Un post-it è così grande Ma questi sono quelli mini Eh sì hai ragione Questi sono quelli mini Loro è quello così Così Per una macchina del genere Secondo me 2000 Può essere Vero? Poi di anche vari colori Per farla esteticamente È carinissima Beh probabilmente hanno comprato i pacchi Tutti colorati Guarda che è carinissima Cioè Si sono proprio impegnati Per farla carina Ma questa la lascerei così sta Guido Ma guarda forse su questa A parte i vetri Perché porca miseria Non puoi A parte i vetri Forse questa la lascerei Vai lo spazzetto qua Qua È che Immagino che appena parti Si staccano Certo che si Ma prima o poi Anche se piove Capisci È un peccato È un peccato Questa è davvero carina Questa si sono davvero impegnati Oh Sto mettendo la maionese Dentro le ciambelle Quindi anzi che la crema Mangi maionese Ah Che schifo Che schifo Questo farebbe male Questo farebbe male Questa roba L'avevo già vista Ah Che brutto È assurdo Che il cartone è bagnato Non l'avrei mai detto Io l'avevo visto In un video Tipo forse di Instagram È assurdo È davvero assurdo Consolini Se oggi Voi te farei una scherza E torvola a qualcuno Prendete un rotolo Di cartagenica Il rotolo è facile da reperire Ce l'avete per forza in casa Questo è bello E cattivo Io ve lo consiglio Io ne metto nel cuscino di ferie oggi Dopo ciò mangiare Mentre dormi Quindi non ci provate Poi Che cosa sono Ah sono praticamente Certamente l'imballaggio Con gli scatoloni Quei cosettini di polistirolo piccoli Incollati Ah Anzi No 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 Mi sto confondendo io Lasciati a congelare la notte Sono praticamente Come si dice Le palline di cotone Quelle che usi anche tu Le hanno messe nell'acqua E congelate Capito Ah Sono congelate C'è un po' che mi è uscito In questa pelle Perché quello fa pelucchi E quindi fa età E c'è pelucchi Infatti è meglio quello di polistirolo Che si sacca Invece le palline di cotone Ti fanno un disastro Cattivo 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 Questo l'avevamo già vista Ma ricordo Ah Però vedi Questi con le macchine A me divertono Io li trovo davvero davvero carini Sono molto molto bellini Cavolo che ridere Dai questo comunque ci mette anche poco A sistemare Dai con un po' di forbici Con un po' di forbici Ti fa ridere Sì sì Ci ti di sopra Ci ti di sopra Davvero carino Ah Questo è il continuo Di quello che avevamo già visto 2011 Si sono impegnati a fare anche la data Sì Porca miseria Dovevi proprio odiarla La tua scuola Eh totalmente Chissà quanti sono Chissà quanti sono Sarei davvero davvero curioso No No È gelatina È gelatina Sì Che schifo Qua ti tocca buttare mouse e tastiera però Qua ti tocca Non c'è altro modo Però Se niente ce l'ho fanati prima Ci può anche stare Perché a me non va dentro Ma soprattutto nella tastiera Va tutto in mezzo ai tastier C'è anche da dire Che uno che tiene a scrivania così Se lo merita un po' Vero Secondo me Tu datini così Quindi tra me Però questo è bellino Questo è bellino Questo è la terra così Tanto non te ne fai nulla Vabbè anche vivi Dai È troppo bellino all'effetto Allora Li abbiamo finiti? No Come già finiti? Eh perché mi sa che erano 25 Fere Ah non ce n'erano di più No io pensavo fosse di quelle Ha fatto uno scherzo anche a noi D'aprile Perché questo è stato Eravamo tutti contenti Scendendo Dai che bello Ce ne sono altri Invece finiscono così Ma che triste Eh sì abbastanza Dovremmo fare uno scherzo Per rimediare Grazie a tutti